Tranquilli, è tutto finto ma importante per la nostra sicurezza. Torno a domenica 27 ottobre l'esercitazione di protezione civile Prometheus 2019 programmata dal comune di Arezzo e che si svolgerà ricostruendo tre scenari emergenziali. Il campo base e soccorritori, l'area assistenza della popolazione, lo scenario idraulico che prevederà anche l'evacuazione della popolazione. Vi prenderanno parte, oltre al comune di Arezzo, le esorzioni di volontariato di protezione civile, cioè la Croce Rossa, la Misericordia, la Racchetta e l'Associazione Nazionale Carabinieri. L'esercitazione avrà inizio alle 8 con l'apertura della sala operativa del centro polifunzionale di protezione civile in via a sette ponti con l'attivazione delle associazioni di volontariato e l'allestimento del campo base dei soccorritori. A seguire è previsto l'invio delle squadre presso gli scenari operativi, lo scenario idraulico sotto il ponte di Pratantico, lo scenario per l'assistenza alla popolazione sul monte di Lignano e lo scenario evacuazione ad Antria. L'esercitazione terminerà intorno alle 13 con la chiusura della sala operativa e un debriefing finale.